Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio parlarti degli ETF short, di strumenti finanziari che consentono di guadagnare soldi quando i mercati finanziari scendono. Quindi quando ci troviamo in fasi ribassiste di mercato, come quella attuale, d'altronde. Anche in queste fasi, quindi quando le quotazioni degli asset scendono di valore, è chiaramente possibile guadagnare, è chiaramente possibile operare. Ci sono vari strumenti. Oggi ti parlo degli ETF short, che sono uno strumento per operare in questi contesti di mercato. Facciamo una prova, su YouTube non l'ho mai fatto. Cerco di spiegare un argomento complesso tramite mappe concettuali. Fammi sapere se questo video ti è stato utile e soprattutto se questa tipologia di video tramite mappe concettuali può essere utile oppure no. Quindi se è cosa gradita oppure no. Adesso andiamo a computer e cerchiamo di approfondire gli ETF short. Bene, parliamo di ETF short, vediamo cosa devi sapere, cosa sono e come funzionano realmente. Partiamo da cosa sono questi ETF short. Sono ETF strutturati, quindi sono ETF più complessi degli ETF normali che conosciamo. E sono prodotti o strumenti finanziari che permettono di replicare inversamente la performance giornaliera dell'indice sottostante. Quindi, a differenza di un ETF long o un ETF normale, magari in cui hai già investito e che conosci, probabilmente, gli ETF short consentono di guadagnare quando il sottostante scende o di perdere soldi se il sottostante sale. Ti faccio un esempio. Prendiamo l'ETF short sul Fuzzimib, quindi l'indice di borsa azionario italiano. Questo permette di guadagnare se l'indice di borsa italiano scende di valore, ok? E permette allo stesso tempo di perdere soldi se tale indice italiano sale di valore, ok? Poi mettiamo... non è proprio così, i più esperti lo sanno. Mettiamo i puntini sull'I e ci arriviamo, ok? Però, a livello giornaliero, cosa accade? Che se il mercato italiano cala del meno 1%, l'ETF short realizza un più 1%. Se il mercato sale del più 1%, l'ETF short invece va a calare dell'1%, ok? Possiamo trovare gli ETF short senza leva, oppure con leva, quindi per amplificare le variazioni giornaliere dell'indice. Dopo ne parliamo. E cosa possono replicare? Possono replicare... ti parlo di ETF short. Possono replicare o indici azionari, come il DAX, il Fuzzimib, e così via, oppure indici obbligazionari, ok? Quindi potremmo andare short a livello giornaliero e replicare inversamente la performance giornaliera di un indice, sia per indici obbligazionari, sia per indici azionari, ok? Non troviamo le commodities, quindi non sono ovviamente... cioè li troviamo in altri campi e possiamo andare short anche sulle materie prime, però non sono ETF quelli là, ok? E non ne parliamo in questo video, ma funzionano in maniera molto simile. Allora, quando vengono utilizzati gli ETF short? Vengono utilizzati sicuramente per speculare i mercati ribassisti, come quello attuale. Quindi per guadagnare soldi o provare a guadagnare soldi se i mercati scendono. Possono essere utilizzati per operazioni di breve, medio periodo. In realtà, come tutti vi diranno, sono più indicati per il breve periodo, piuttosto che per il medio o addirittura per il lungo. Per il lungo è meglio evitare, dopo lo vediamo. E possiamo operare nel breve, andando a ribasso nei mercati, senza ricorrere a derivati, ok? Utilizzando questi strumenti. E possiamo anche utilizzare tali strumenti, gli ETF short, per coprire delle posizioni già aperte. Cioè io potrei avere una posizione long sul Fuzzimib tramite un ETF e potrei andarmi a coprire con un ETF short sempre su tale indice, ok? In realtà non c'è una copertura precisa per vari problemi. Sia perché c'è un problema di replica, e adesso ci arriviamo, e sia per problemi di fisco. E dopo anche di questo ne andiamo a parlare. Allora, che dovresti sapere per questi ETF short? Devi intanto sapere che sono prodotti costosi. Pur essendo degli ETF, gli ETF generalmente sono strumenti finanziari dal basso costo, però pur essendo ETF non possono avere bassi costi. Perché? Perché l'ETF short cosa va a fare per andare a ribasso nei mercati, per permettere di guadagnarti nei ribassi dei mercati? Va ad effettuare delle vendite allo scoperto. E cosa vuol dire vendere allo scoperto? Vuol dire vendere qualcosa che non possiedi, ok? Come fai? Qualcuno ti deve prestare quel qualcosa, e dato che San Francesco d'Assisi non c'è più, non lo fa gratis, ok? Questa persona, questo soggetto non lo fa gratis. Quindi vi è un costo implicito legato al prestito titoli, ok? Quindi sappi già che sono strumenti costosi. Poi c'è un problema, l'effetto compounding. Questa è una tematica molto... cioè questa la devi sapere per operare sugli ETF short, perché è veramente, veramente molto, molto importante. Allora, come per ogni investimento, i rendimenti superiori ad un giorno sono influenzati dall'effetto compounding, dovuto ai movimenti di mercato. Ti faccio qualche esempio per farti capire questa tematica. Allora, prendiamo un indice, Fuzzimib, facciamo finta, e un ETF short sullo stesso indice. Facciamo partire tutti e due, sia l'indice che l'ETF short, è solo un esempio, ovviamente, ha un valore di 100, ok? L'indice fa il primo giorno un più 5, quindi l'ETF short andrà a realizzare un meno 5, ok? Perché? Perché dà la performance inversa, non è a leva, ok? Non è un caso a leva, facciamo senza leva. Il valore dopo un giorno qual è? È 100 più il 5% arrivi a 105, 100 meno il 5% arrivi a 95, ok? E fin qua, ok. Il secondo giorno cosa succede? Può succedere che l'indice fa un meno 4, quindi 105 meno il meno 4 arrivi a 100,8, e l'ETF short ti fa quindi un più 4, ti dà la performance inversa a questa, ok? Un più 4 su 95 arrivi a 98,8. Fermandoci a due giorni, quindi un'operazione non intraday ma multiday, cosa succede? Che l'indice ha fatto un più 0,8, tu magari da investitore ti aspetti di fare, in questo caso, un meno 0,8, invece succede che per l'effetto compounding, vedi che c'è una discrepanza, tu realizzi un meno 1,2, ok? Anche il rendimento, quindi per forza le cose cambia, no? Non è lo stesso. Vedi che la replica inversa non è perfetta in questo caso. Lo stesso può accadere in due giornate magari negative, questo è solo un esempio, su più giornate la situazione si complica, però su due giornate negative facciamo finta che l'indice fa un primo giorno, il meno 5, poi un meno 4, con un profitto di, scusate, con una perdita quindi del meno 8,80. Se abbiamo un ETF short ti fai un più 5, il primo giorno, un più 4, il secondo. E come vedi anche in questo caso la replica multiday non è perfetta, vedi che non è lo stesso il rendimento, ok? Non è lo stesso. In questo caso comunque ci andrebbe bene, anzi, ci andrebbe meglio, no? Di come immaginiamo, perché non realizziamo un più 8,80, realizziamo più di un più 8,80. Però vedi che la replica non è perfetta. Può succedere anche di incorrere in due giornate positive consecutive, quindi più 5, più 4 sull'indice e un meno 5, meno 4 su ETF short, vedi che porta a diversi risultati, anche in questo caso. è possibile avere un giorno positivo e un giorno negativo, vedi che anche in questo caso le cose non tornano, ok? Più o meno sì, però non è una replica perfetta e anche in questo caso, guarda, se le variazioni dell'indice sono uguali e di segno opposto, il rendimento dell'indice sarà sempre negativo, ok? È una particolarità. Quindi l'ETF short realizza una performance negativa uguale a quella dell'indice, e quindi può essere strano. Quindi se fai un meno 2 e un più 2 su due giorni per l'indice, l'ETF short ti fa un più 2 e un meno 2. Cosa succede? Succede che ti dà lo stesso risultato negativo, vedi, è una particolarità. Quindi, ipotizzando e rimanendo solo nei due giorni, nell'ipotesi dei due giorni, possono esserci queste casistiche. Se l'indice è per due giorni consecutivamente in negativo, il comportamento dell'ETF short è positivo e meglio del previsto. Se troviamo due giornate positive per l'indice, il comportamento dell'ETF short ovviamente è negativo, ma meglio del previsto. Se c'è un po' di volatilità, vedi, c'è un comportamento peggio del previsto per l'ETF short. Questo ovviamente stiamo vedendo la performance su due giornate. Cosa succede invece nel caso di più giornate di quotazione o di operatività? La situazione si complica ancora di più. Se hai un ETF short, devi sperare in tante chiusure negative dell'indice sottostante e devi anche sperare di non incappare in periodi di alta volatilità o in trend laterali. Più la volatilità è elevata e maggiore è l'effetto compounding. Quindi questa discrepanza su periodi sia volatili e su più giorni viene amplificato. Nel caso in cui vai a utilizzare ETF short a leva, che adesso vediamo, quindi vai ad amplificare le variazioni giornaliere dell'indice, sia in maniera positiva che in maniera negativa, l'effetto compounding anche in questo caso viene amplificato. Poi, puoi trovare per gli ETF short molte volte, non dico quasi sempre, però è normale trovarli, ETF short a leva. Cosa fanno? Vanno ad amplificare le variazioni di prezzo in entrambe le direzioni. Ok? Ipotizziamo di trovare un ETF short a leva 3, possiamo incorrere in queste due situazioni a livello giornaliero. Se l'indice sottostante fa un più 1, io se sono a short a leva 3, faccio un meno 3. Ok? Se l'indice fa un meno 1, io faccio un più 3. Quindi replico inversamente la performance dell'indice, però amplificata per un determinato moltiplicatore. Qui bisogna prestare la massima attenzione sui ETF short a leva. Perché? Perché possono azzerarsi anche in una notte. Ok? Ci sono stati problemi, soprattutto nel caso di dove si va a replicare in realtà le materie prime, come il petrolio. Tanti prodotti short, non ETF in realtà, però tanti prodotti short si sono azzerati. alcuni ormai hanno dei meccanismi interni per evitare tale inconveniente, perché succede anche in una notte, può succedere di perdere di investimento, però sappi che può succedere se utilizzi strumenti a leva short. Ok? Quindi fai attenzione e stacci attento. L'effetto compounding viene amplificato per, come ti ho già detto, per gli ETF short a leva. Ok? Facciamo un esempio, guardiamo questa tabella. Allora, l'indice sale e scende del 2% ogni giorno, l'indice sottostante. Quindi fa un più 2, un meno 2, un più 2, un meno 2, ok? Solo un esempio. Cosa succede su prodotti, sia long a leva 3, sia short a leva 3? Ok? Vediamo tutti e due, non solo gli short. Allora, dopo 11 giorni, arriviamo qua, cosa succede? Che l'indice è il rialzo dell'1,8%, per fare questi giochini del più 2, meno 2, il prodotto a leva 3 long sarebbe il rialzo solo del 4,1, ok? Quindi ha fatto una 2,3 per rispetto all'indice, non un per 3, e invece il prodotto short a leva 3 ha fatto un ribasso del 7,7, quindi un meno 4,3 per dell'indice, rispetto all'indice, ok? Altro caso, l'indice sottostante sale del 2%, vedi, tutti i giorni. Cosa accade? Dopo 11 giorni, quindi ci troviamo qua, l'indice è il rialzo del 24,3%, lo strumento a leva 3 long sarebbe il rialzo dell'89,8%, quindi un 3,7 per rispetto all'indice, etf short a leva 3 è il ribasso del 49,4, quindi ha fatto solo un meno 2x rispetto all'indice, non un 3x, ok? Tuttavia, su base giornaliera, il prodotto sia a leva 3 long, sia a leva 3 short, hanno segnato risultati esattamente corrispondenti alle aspettative, ok? Non hanno replicato in maniera perfetta, però almeno era immaginabile, no? Cosa sarebbe successo. Anche per gli etf short va fatta attenzione alla valuta, perché esiste il rischio di cambio anche per questi etf. qui non entro in questo video, ho già fatto un altro video sul mio canale YouTube, magari te lo metto in descrizione per informarti su questa tematica. Poi ti ho detto che gli etf short vengono utilizzati come copertura, quindi posso avere magari un'operatività di x su un etf normale, sul fuzzimib, posso andare a proteggermi ipotizzando con lo stesso importo sull'etf short del fuzzimib, ok? Pensando quindi di andare a cancellare la volatilità a ribasso. In realtà non è così, perché? Intanto c'è il problema dell'effetto compounding e se manteniamo aperta per più giorni l'operatività, succede quello che abbiamo visto. E successivamente c'è anche il problema che questi strumenti, quindi gli etf short, non sono efficienti lato fiscale, quindi non permettono, se li vendi in guadagni, se li vendi in guadagno, non permettono di recuperare le minusvalenze. Quindi facciamo finta, hai un etf in perdita, un etf long, normale, in perdita di 1000€ e quello short stai facendo un più 1000€, facciamo finta, se vai a vendere a plusvalenza dello short, devi pagarci l'imposta sostitutiva, ok? Quindi non vai in realtà a coprirti in maniera perfetta. Quindi devi fare attenzione anche a questo. Per quanto riguarda l'utilizzo nel lungo periodo di questi strumenti, gli etf short, ti devo dire che non sono prodotti o strumenti da cassettista, quindi da odlers, ok? Non... Per tre motivi. Uno, per l'effetto compounding, l'abbiamo visto. Due, perché i mercati, comunque sia, tendono a crescere nel lungo periodo, soprattutto magari i mercati azionari, dove vengono reinvestiti i dividendi e così via. Chiaramente ci possono essere momenti in cui scendono di due o tre anni, così via, però nel lungo periodo tendono a salire. E poi, anche perché sono strumenti costosi. Quindi non sono indicati per investire nel lungo periodo questi strumenti, gli etf short. Ti devo parlare anche della possibilità dei divieti short. A me è successo, come a molti. Può succedere che le borse regolamentate vadano a imporre un divieto sugli short. Ok? Il mondo centralizzato è così, nel senso se esce una legge o qualche decisione non possiamo farci nulla. Questo è successo molte volte nelle fasi turbulenti dei mercati, è successo anche a marzo 2020 con il covid o comunque in un periodo adesso non ricordo se era proprio marzo probabilmente sì, nel periodo del covid-19 e cosa succede? Succede che vietano di andare short, quindi questa operatività anche tramite etf short. Solitamente succede che chi ha lo short aperto prima di questo divieto può tenerlo ancora aperto, però non può incrementarlo, può solo holdare, cioè può fare tra virgolette cassettista, multi-day o vendere in parte completamente questo strumento short. Questi strumenti possono essere a volte acquistati però solo per proteggere posizioni già in essere quindi magari puoi comprare anche se c'è un divieto un etf short sul mercato italiano però devi avere una posizione long già da prima sullo stesso mercato e non devi andare oltre con la posizione short rispetto a ciò che hai long e chi non rientra in queste due tipologie che abbiamo visto adesso non può operare in short perché appunto c'è il divieto. Questo succede spesso anzi succede quasi sempre ci sono crolli molto molto interessanti cioè quindi sul più bello tolgono la possibilità di utilizzarli solitamente. Ti devo parlare di etica in realtà non ho voglia di parlarne qua e non lo vedremo però ti dico che ti dico solo questo se utilizzi tali strumenti etf short le persone ti giudicheranno cioè se lo vai a dire in giro le persone ti giudicheranno senza sapere realmente cosa fai ok? Non mi interessa adesso di trattare questo argomento se hai etico o meno andare short tramite questi strumenti però sappi che le persone ti giudicheranno puoi chiederti cosa succede quando c'è lo stacco del dividendo per l'indice in realtà non succede nulla per l'etf short perché replica indici total return quindi non succede nulla al momento dello stacco dei dividendi quindi quando utilizzare questi strumenti questi prodotti quando si voglia fare trading speculazione di breve periodo ti ricordo che non sono prodotti cassettista quindi non sono prodotti da investitore di lungo periodo personalmente direi di utilizzarli in trend ribassisti ben definiti e non in trend laterali ok? come per ogni strumento finanziario è bene esserne pienamente consapevoli prima di un eventuale utilizzo quindi studia bene questa faccenda di etf short qualora tu volessi utilizzarli ci vediamo al prossimo video fammi sapere se questo video ti è stato utile e se questa metodologia di video tramite le mappe concettuali ti è piaciuta o meno no